Una battaglia che avrebbe preferito non combattere, un padre estremamente fragile come molti altri, che non sa quando potrà essere vaccinato, non è una battaglia politica. Per Maria Santoro il diritto alla salute è una battaglia civile, che non può essere associata alle appartenenze politiche. Combatto questa battaglia ovviamente non soltanto in nome di mio padre, che rientra nella categoria dei soggetti cosiddetti fragili, ma anche per tutte le altre persone che rientrano in questa categoria, vaccinare i preti piuttosto che i dipendenti regionali, piuttosto che i dipendenti della Confcommercio, piuttosto che i dipendenti comunali di Martina Franca, cosa che è accaduta l'altro giorno, bisognerebbe seguire le linee governative e vaccinare, completare la vaccinazione degli anziani e delle persone fragili. La Puglia ha vaccinato tutto il personale scolastico, eppure il governatore Michele Emiliano con una nuova ordinanza lascia alle famiglie la libera scelta di noi in aula, aumentando per Maria Santoro il divario formativo tra Nord-Sud ed ancora alunni di Serie A e Serie B. Gli insegnanti sono stati vaccinati, togliendo appunto la priorità agli anziani e ai fragili, ciò nonostante c'è ancora la possibilità unicamente in Puglia di scegliere se mandare figli a scuola oppure no. Bisogna ricordare che l'istruzione non è soltanto un diritto, ma è anche un obbligo. I dati Unicef hanno fatto emergere che, per esempio, nell'ultimo anno sono andati a scuola a Milano i bambini per 112 giorni, a Napoli per 70, a Bari per 48 giorni in un anno. Grazie a tutti.